Una cosa, come dirò anche domani, io mi canido solo per una legislatura. Cosa vuol dire? Che io prometto, questa volta lo prometto, posso prometterlo, che il mio programma sarà definito nei primi sei mesi della legislatura e non gli ultimi tre mesi. Gli ultimi tre mesi sono destinati a chi vuole fare grandi cose per essere rieletto e quindi per me prendere un po' in giro gli elettori. Io no, io vi dico già subito che lo farò solo per i primi cinque anni e poi tornerò a fare il mio lavoro e per cui tutte le opere che voglio fare le saprete i primi sei mesi. Questa è una garanzia assoluta e soprattutto io, una cosa che ci tengo tantissimo, è che qualsiasi decisione che prenderò per le grandi opere sarà solo esclusivamente fatta con la partecipazione di tutti i cittadini. Io ci tengo e dell'opposizione anche, le dirò di più, perché io le buone idee da qualsiasi parte provengono le accetto ben volentieri. Questo è quello che... Va bene.